Hanno visto le mappe e la loro casa di accoglienza segnata come obiettivo militare, come area critica e sensibile, quindi a rischio bombardamento. Bisognava trovare una strada rapidamente per scappare e mettersi in salvo, la paura di non farcele, il terrore delle bombe alle spalle ma lontano la luce della salvezza. Così dalla struttura che le ospitava in Ucraina, 20 bimbi insieme alle educatrici hanno imboccato i corridoi umanitari e sono arrivati in Italia. Sono bambini speciali segnati già da una vita piuttosto difficile, così le mamme, in un percorso che le ha messe duramente alla prova. Dall'Ucraina a Sarno, in un viaggio carico di speranza non senza difficoltà, sono così approdati, accolti in un abbraccio familiare, nel centro pastorale interparrocchiale delle parrocchie del centro di Sarno, con Don Roberto Farrugio e tanti volontari. I bambini presentano delle disabilità ma non sono un limite, tutti insieme sembrano aver recuperato in questi giorni un sorriso spensierato. Tra i corridoi c'è profumo di fiori e qui c'è una piccola e nuova primavera. Don Roberto Farrugio racconta alcune storie di mamme e bambini, lo fa con uno sguardo carico di gioia, seppur nella difficoltà di questa accoglienza così complessa. Senti appieno la forza della generosità e sente quanto ora questi piccoli stiano bene. C'è bisogno sicuramente di sostegno, soprattutto attraverso figure specialistiche, sarà avviato un ulteriore percorso che garantirà anche l'assistenza sanitaria. Lida dice che quando è scoppiata la guerra in Ucraina, in quel momento 80 bambini e persone con disabilità vivevano nella casa della misericordia e dovevano trovare un luogo sicuro per salvare la vita di questi bambini e individui e quindi sono riusciti a trovare la via per venire in Italia. Sono arrivati attraverso l'esarcato apostolico ucraino in Italia, sarebbe la diocesi dei greco-cattolici ucraini d'Italia dove un parroco ha riferimento nella nostra zona, Don Igorstus, e quindi attraverso di lui e attraverso l'esarcato sono arrivati in Italia. Sono arrivati qua perché questa comunità ucraina ha legami forti anche con le nostre parrocchie e qui celebrano ogni terza domenica del mese. Ci hanno raccontato che la loro città non è stata ancora bombardata ma nelle mappe militari risultava come luogo militare sensibile quindi in un eventuale bombardamento avrebbero immediatamente bombardato quell'istituto. La situazione è che sono famiglie con fragilità sociali. Le mamme hanno un passato di difficoltà, tante di loro, per cui molte non vivevano con i propri figli ma i figli stavano in questo istituto, Casa della Misericordia, e quindi si ritrovano adesso a vivere con i propri figli perché venendo in Italia l'IDA con la direttrice hanno chiesto alle mamme di venire insieme ai piccoli, di salvarsi un po' tutti e quindi sono venuti un po' tutti qua. E abbiamo diviso qui nel centro pastorale un nucleo familiare per ogni stanza. In questo modo ritrovano una certa vita familiare con le difficoltà di una mamma che dopo anni per le prime volte rivive con i propri figli. Lei prima mi raccontava di bambini che hanno delle disabilità tutte differenti. Sì, hanno disabilità varie. Ci sono disagi sociali e quindi psicologiche innanzitutto per le situazioni familiari che hanno vissuto. E poi ci sono alcuni che hanno anche patologie. Abbiamo una famiglia che ha tratti down. Alcuni di questi bambini hanno anche patologie varie, di vario genere. Almeno col medico stiamo cercando di creare una cartella clinica. Abbiamo una disabile adulta e quindi abbiamo più realtà che vivono questa difficoltà. Devo ringraziare le autorità che ci stanno aiutando, l'ASL e la polizia, perché in maniera sollecita si sono messi a disposizione. L'allungaggine sta nel fatto che i documenti sono in cirillico e quindi abbiamo bisogno di tradurli. Ovviamente tutti siamo stati trovati, spiazzati dalla realtà. Per cui devo mettermi con qualche persona della comunità ucraina, che anche la comunità ucraina di Sarno sta collaborando tanto, a tradurre tutti i documenti e poi ritornare volta per volta per cercare di regolarizzare un po' tutto e soprattutto per la registrazione all'ASL, che per loro è particolarmente importante. Sarebbe forse opportuno, forse non dipende da loro ma da qualche legge centrale, di accorciare ancora di più delle procedure. L'accoglienza adesso diventa sanitaria? Sì, l'accoglienza diventa sanitaria. Ringrazio il dottor Bello e il gruppo dei medici dell'ASL, con cui ieri ho avuto un incontro e mi hanno dato grande disponibilità, pure per una serie di accortenze che bisogna avere verso di loro.